La fotografia di Aurelio Amendola raccontata in 200 scatti, una grande mostra che la città di Pistoia ha voluto dedicare al suo celebre fotografo. Con l'esposizione Aurelio Amendola, un'antologia, Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri, la Fondazione Pistoia Musei celebra i 60 anni di carriera di un fotografo che ha interpretato i capolavori della scultura del passato, celebri i suoi scatti alle opere di Michelangelo e parallelamente ritratto gli artisti a lui contemporanei come Warhol, Giorgio De Chirico o Marino Marini. All'inaugurazione della mostra anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Aurelio Amendola ci accompagna attraverso l'evocazione e la struggente emozione che offre con le sue fotografie in un percorso che va, consentitemi, dal suo preferito Michelangelo, le foto e i libri di Amendola sull'interpretazione del non finito nelle sculture di Michelangelo sono qualcosa unico al mondo. È la prima esposizione che raccoglie quasi l'intera produzione del celebre fotografo e che va a sottolineare il suo legame tra la tradizione classica, la storia dell'arte e la fotografia. Cominciando da Marino Marini all'ultima fotografia che ho fatta a Gillo Dolfe, che è questo ragazzo di 104 anni e è passato già 60 anni. Devo dire fare un'antologica è il sogno di tutti. Io qui sono contento, la mia città me l'ha fatta con i miei angeli custodi, i critici Marco Meriguzza e Paola Goretti. E che devo dire, spero che questa mostra si possa trasferire in altre sede. Nato a Pistoia nel 1938, Aurelio Amendola è stato fotografo dell'Ermitage di San Pietroburgo, degli Uffizi dei Musei Vaticani.